Onit Buongiorno, mi chiamo Leonardo Milani, sono psicologo ma non sono un clinico, mi occupo di benessere delle persone e sono all'interno di Onit, che è una struttura molto interessante che si occupa di persone, anche se il prodotto è completamente diverso. Sappiamo che dando strumenti di equilibrio e di benessere le persone riescono a performare meglio, ma credo che la cosa più importante sia essere felici all'interno del posto di lavoro che occupiamo. La pandemia da Covid-19 ha duplicato i riflettori sul tema della salute mentale, soprattutto in azienda, non soltanto focalizzandoci sulle conseguenze psicopisiche dell'isolamento sociale e dello stato di allarme, ma anche portando le aziende a rivedere i loro paradigmi e a rivalutare un processo di trasformazione, non solo operativo strumentale, ma anche di carattere meramente culturale. E quindi una cultura solida e proiettata al futuro è una cultura che pone al centro il benessere dei propri dipendenti. Per un'azienda che voglia quindi definirsi etica e che abbia un impatto positivo sul territorio, ma che allo stesso tempo persegue degli obiettivi di business.